damose una bottiglia d'acqua perché c'ho sete proprio niente ma c'è affaro c'è un sacco di acqua stiamo sul mare bevi la buonasera collega buonasera ma perché c'è una spara che la mollo qua questa va usata con parsimonia ti ho comprato la torcia e dev si l'avevamo messo non abbia messo le ms nuovo come non sono io e ci stanno le robe vecchie perché c'è stato e quindi c'è mozza proprio capito vabbè dai e non posso avere preso anche il che termos l'ho preso l'ho preso la luce ovino io peso il termos e la spara flash ok chiede a fatti potevi prendere in altra camera e c'è stato io a ok ma io l'ho detto che così la prendivano ma dove andate senza di me a fallò che roba senza di lei e non si muove io per cominciare metterei la telecamera qua che non si sa mai che è qua davanti ma che luogo pittoresco testa fatti un giletto ma guardi guardi anche la sciabba la viola vado a tirare ragazzi venite qua perché il fantasma sta qua dove si sta scendendo la temperatura eccolo sta qua c'è pure la piene la telecamera bene bene sentiamo se si fa sentire v5 lmf dai e mazza 5 sono le freccette giusto sì sì devono essere cinque quelle sotto vabbè sopra sopra si è uguale è uguale guardate il casino che ha fatto qua si è tutto tutto per terra questo mi sa che è il demo però non mi ha ancora parlato quanta attività ma siccome è un faro no com'è che ci arriviamo qua noi ma ma il camion allora prendo questo prendo il sale prendo il libro ah ok ma che dobbiamo fare quali sono gli obiettivi usa vincenzo mentre il fantasma la caccia a prendere il sensore vediamo se passa un attimo nel dots dev aspetta un attimo o se si vede un c'è anche l'altra telecamera aspetta o se si vede una sfera di luce che ne so non c'è anche un'altra telecamera si è qua la non riesco a metterla che c'è scritto aspetta però io ah ok questa qua nella provincia di massachusetts eh si massacciuccio ma state arrivando adesso arriviamo stiamo guardando un attimo no andiamo dobbiamo prendere qualcosa no siamo tutti alti bene beh io prendo la spirit box così per simpatia si si oh qua c'è un temperatura mi sa ma siamo alti all'ora di si si siamo alti siamo 82-83 scrivi sul libro la porta del bagno l'hai aperta tu dev? eh mi sa di si tieni Lenno dove stai? eh do ok ma vaffalò ho messo avevi sete ah grazie oh sparaflescetti sparaflescetti ok va bene quindi se è la seconda prova? l'impronte ultravioletto sei qui? sei qui? sei qui? quanti anni hai? ma io non so neanche leggerla sta roba allora ha detto che quando compare rosso che fai dev? sente ma non risponde esatto no vuol dire che non no in realtà voleva dire che non c'era ma scusate quello nel bagno lo specchio non è lo specchio andiamo magico quanti anni hai? l'ho già fotografata oh ok hai risposto? quanti anni hai? no però mi ha fatto capire che mi ha sentito scrivi sul libro write on the book quanti anni hai? quanti anni hai? ok vabbè vieni l'inizio non c'è male la lascio qua andiamo a prenderci le pastiglie si che sicuramente servono e no poi mi ripetete mi ripetete che prove abbiamo che non me lo ricordo allora voglio trovare rosso allora abbiamo ultravioletto e mf ok l'avete trovato? si si l'ho trovato ok quindi può essere il dots la sfera di luce la spirit box no quindi per forza non mi rispondeva libro spiritico e temperatura vediamo magari mo scrive quindi la spirit non serve a niente io vado a incensare ma serve? ma no mentre il fantasma dà la caccia poi puoi tenerlo in modo che se c'è dà la caccia lo accendi no? l'ombra sul muro? che cos'è? sporco senti come cammina eh niente vabbè mi prendo la pazienza che vogliamo prendere? io prendo un altro oh beh due vediamo se c'è temperatura dai io prenderei un altro dots giusto per si vedete c'è scritto sul libro si ecco tu non vieni ma perchè lei non viene no stavo stavo vedendo no stavo vedendo i fantasmi da dovrebbe farsi anche un giro in tutto il faro e vederlo bene che è molto bello allora vado su guarda ci lascia le penne non ha il tempo di andare su è troppo grosso il faro dai ma passa nel dots signor John ma qua c'è anche la centralità si ragazzi abbiamo la terza prova temperatura? si è vero temperatura sta scendendo tantissimo ok perfetto ci facciamo vedere la caccia o no? perchè? e così facevamo anche l'ultimo obiettivo ah eh se sei veloce accende ma si tanto qua è l'uscita no questo non serve a niente quindi è il gin è il gin fa vedere? ehm interruttivo ah subito così come si chiamava lo stronzo? eh non mi ricordo John John Bowen John Bowen faccio così si è incazza è proprio qui cioè sta sta in questo corridoio gli piace questo corridoio il lo sgomber è uno sgombro questo lo sgomber giappone come è un cepalo? ma è un gados oh sei pronto eh dev si si ma sono io che faccio questo rumore ecco la porca vacca maledetto volevo farlo gli ho fatto la foto gli ho fatto la foto no 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 esci 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 Len esci ce la fa Andiamo Ma dite che attaccava No, secondo me non attaccava Ma penso che avrebbe chiuso la porta Però, non si sa mai No No, non ce l'ha dato Vabbè, non rischierei, dai Fammi vedere se però è venuta la foto Perché io vi ho fatto la foto Ma sta ceppa Non ci ha dato la foto? No Ma dai Ma no, io ho fatto la foto al fantasma Ma che Andate a farlo Voi il faro Vabbè Damose Damose, damose Non rischiamo, damose Vado, eh Vado, vado Pronto? 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 Uè, uè Uè, uè, uè Il G In Uè 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 Te immagini? Ce l'aveva fregata un'altra volta Tanta roba Tanti ponti Forse passano Ancora no Però Arrivo al livello 28 Tra poco E passo anche io Di livello Tanti punti